Ha scelto, ha scelto Pietra Santa, la sua Pietra Santa, la nostra Pietra Santa di cuore. Pietra Santa è stato un posto molto importante per mio padre, è stata la città dove lui ha lavorato la scultura per 40 anni insieme agli artigiani che si trovano qua, i professionisti talentosissimi di Pietra Santa che hanno fatto possibile le sue mostre di scultura nel mondo intero. Grazie.